Oggi vi mostreremo 5 modi per utilizzare le trappole su Fortnite E per farlo siamo in un match dove giochiamo soltanto io e Ferre E quindi ce ne andiamo appena con i pendenti Prendiamo tantissime trappole Ferre si prende tantissimi shield per sopravvivere alle mie trappole E facciamo vedere appunto 5 tecniche per fregare tutti i player di Fortnite Per ammazzarli con le trappole Sono 5 modi infallibili Davvero davvero utili Spero di trovare delle trappole per di più Però siamo andati nella città in cui di solito ne vedo di più Esatto comunque mi metto a luttare pure io Se trovo delle trappole te le lascio E speriamo bene Credo che tu le possa prendere e poi le butti per terra Certo certo Sì aiuto che volo ti ho fatto Tutto a posto Sì tutto a posto Sto benissimo Chest mi serve una trappola Ho trovato uno shield Vabbè lo prendo per te Ho trovato un altro shield Vabbè lo prendo per te Io non ho trovato una ceppa Stef Mi dispiace Bande che possono essere utili Sì sì assolutamente Oh ecco uno shield grande che inizia Uno slurp Può essere utile Oh è la città degli shield oggi totalmente Ok mi servono ovviamente anche un bel po' di materiali Perché alcune delle trappole che vi mostreremo Hanno a che fare con il materiale Quindi un po' di roba me la prendo Il cecchino sarebbe bellissimo la prendere Ma non posso Quanto è bello poter luttare pinnacoli pendenti Tranquilli In tranquillità Così Senza aver pora di essere ucciso Bello bello con calma Ah cosa c'è qui Ah ma cosa c'è qui Anche perché poi c'è un loot incredibile Ah sì Prima trappola trovata Ok ottimo Ok me ne servono ovviamente cinque Perché sono cinque tecniche diverse Quindi mi servono cinque trappole per fare sta roba Dodici minuti per trovare cinque trappole Sì è andata davvero così Allora io tipo otto shield Quattro medichi Ho tutta la barra Primo modo di mettere una trappola Sapete che se voi mettete una trappola Vicino a un armadio A certe costruzioni Funziona E viene totalmente nascosto Ovviamente potete controllare in questo modo Per vedere se in certi posti potete In altri non si può Come potete notare in questo momento Ma guardate esempio in questo caso Voi mettete una trappola così Uno passa di qui Cioè vi rendete conto No ma non di qui Guarda aspetta aspetta Mo lo faccio bene Mo lo faccio bene Allora facciamo le scenette Come si deve Visto che ci abbiamo messo una vita Ok Guarda Steph Vai Io entro Controllo sul fitto Se c'è una trappola Ops ne ho preso una Capisci Ok allora aspetta Cosa ti do Ti do uno slurp Ok grazie E poi facciamo uno shieldino E uno shield grande Ok Ok E così abbiamo fatto il primo Quindi consiglio gigantesco Quando siete dentro una casa Mettete la vostra trappola dietro armadi Librerie Si può mettere davvero dietro un sacco di oggetti E i player non lo vedranno No lì quasi sempre si viene fregato Perché comunque si guarda sempre il soffitto Comunque il pavimento Invece lì poi con la libreria che nasconde È tosta vederla È tosta Guardate l'esempio anche qua Non si noterebbe un granché Ok il secondo modo Ma dove sei? Sempre nella stessa casa? Eh no Frey mi sono spostato un po' Scusami Io non ti vedo nella mappa E mi stavo bevendo gli shieldini Eh mi vedi? No Però ti sento Tu hai tuoi passi? Anche io sei in questa casa Sì fai tutto il giro Non entro in casa perché ho messo una trappola Ok vabbè no è giusto Io la devo tentare Vediamo se è efficace No perché non l'ho ancora No Frey dove sei? Qui vicino a te Allora Ok non ci vedi Prima devo buttare giù questo Ovviamente è soltanto in questo caso che è qui Però questo concetto vale sempre E questa me l'ha fatta vedere Gongs la prima volta Oh ok Quindi ci tengo Guarda Ta 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 Spero di stare ricordando giusto Ok praticamente voi con questa modifica ricordate Quindi tre bassi è soltanto quello centrale Create un arco Come potete vedere Qua ovviamente si nota perché siamo in una casa Ma in altri posti con l'arco non si vede più la trappola E quindi è super efficace Vai Fere Vengono entra La 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 Boom Ok Vai via però veloce Devo ripassarci No Fere Sto scherzando Ok allora Ti tiri Vabbè doppio shield E direi che il medikit te puoi anche fregare C'è pure uno shield dietro guarda Con coincidenza Ok perfetto Poi terzo modo Il terzo modo secondo me è il più banale E semplice C'è che molti di voi conoscono Che addirittura ho dato anche mi sai in alcuni video Volevo farlo lì però non posso Lo faremo qua nel garage Ok ok Ti devo seguire ogni volta Ricordati che io non ti vedo Mi dimentico Mi dimentico E mi lasci a bere gli shield e mi perdo Allora Ah vabbè Qua facciamo Tipo così Magari lo sommiamo pure Perché noi siamo persone che sommano addirittura Ok Le combinazioni di trappole Ok aspettate Lo facciamo pure così Quindi si fa così appunto Ok Ovviamente questa la potete mettere in soffitto La potete mettere dove volete Cosa fate Voi prendete E fate la solita tattica Un player normale Cosa andrà a vedere in questi momenti E fai Oh mio dio è pieno di cure E prendi la sberla E rimani Vi garantisco che nessuno noterà che c'è una trappola Ovviamente non esagerate Cercate di non essere esagerati Ne mettete Ma non troppe Secondo me esatto Perché altrimenti Più lo fai realistico E più funziona Sì assolutamente Ok c'è la nuova zona Io recupero tutta sta roba Che altrimenti ci metti una vita a prenderla E adesso andiamo Ne mancano soltanto due Uno Diciamo serve moltissimo in endgame Mentre l'altro Diciamo che si può un po' arrangiare sempre Ok ok Quindi pensiamo Mi sa prima quello da endgame Va bene? Va bene va bene Allora ad esempio Io sono dentro la zona Stiamo entrando dentro Mi vedi? Dove c'è l'air drop sono praticamente Ok sì E pieno di air drop per terra È bellissimo giocare in due Quanto vorrei luttare tutto Allora Mi devo fare un attimo la mia fortezzina Ok Ti guardo da fuori Chissà che farà quel player Facendo la torre Sei simpatica Wow Tu inizia a fare un ponte Per poter arrivare dove sono io Ai materiali? Sì Ok perfetto Allora Non esageriamo Perché tanto non c'è bisogno Sì sì Vieni 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 Il concetto cos'è Praticamente Voi prendete E vi tutelate Questo perché Perché magari state sparando Uno Soprattutto non tanto con le scale così Ma col trampolino Vi vuole entrare in base Voi avete già Io guarda Fai finta Steph Sto volando nella tua base Esatto La rompo velocemente Non cadere di sotto Per favore Mi devo spostare Scillati e curati Qui ci muoio Allora io ti sto distraendo Ok Ok E sto prolungando Perché mi sono dimenticata La numero 5 Come te la sei dimenticata Sì Quindi Come Steph Sono un po' in crisi Inventatene una al momento Eh infatti pensavo Di cambiarla Inventandone una Allora seguimi 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 No a parte gli scherzi Davvero me ne sono dimenticata Una ve lo giuro Però ce n'è una Che Steph fa spesso Che non è male Eh Fere mi hai seguito? No Puoi venire nel ponte Nel ponte Nel ponte Quel ponte che io avevo fatto Fere Non mi sparare Ok vai Ok Praticamente Voi vi siete fatti il vostro ponte Mettiamo che qua stiamo salendo Su una montagna Vi siete fatti il vostro ponte Nella cima Voi fate I cattivi Quindi uno fa Ah grazie Quello mi ha già fatto il ponte Pra E viene spiazzato Quindi ve la consiglio vivamente Spero che Fere non sia morta No Quasi Ho 27 di vita Ve la consiglio vivamente No questo è utile Soprattutto Perché è una tutela Per non farsi seguire Poi se uno si fa il suo ponte Pazienza Almeno fa rumore nel buildare Ma se segue la vostra costruzione Non fa niente rumore Questa è un'ottima tattica Per controllarvi dietro Quando voi stessi fate un ponte Ovviamente l'altro modo cos'è Distruggete il ponte che avete fatto Non ci vuole molto Distruggete tutta la scalinata Che vi siete fatti voi E non vi possono seguire Ma se poteste aver bisogno Di scendere da lì Perché magari Vi potrebbe essere utile Di nuovo scendere da quella montagna Da quel punto Allora conviene fare una roba del genere Che funziona spesso Ma non sempre Siamo in un game con i fan Dove stiamo giocando tutti seriamente Siamo già stati buttati giù Un casino incredibile C'è una guerra allucinante E ho visto della gente a corso commercio Tre persone che vanno via Penso che siano ben equipaggiate Sì suppongo E noi non è che lo stiamo così tanto Esatto Però ci serve assolutamente L'orequipaggiamento Perché appunto Non siamo ben messi Il nostro team è anche abbastanza ferito Allora sono lontani ancora Vero? Sì 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 Probabilmente me ne ho visto Probabile C'è uno che si guarda fesso intorno Controllate Miratemi Controllate se sono davvero io Colpito 60 di shield Di nuovo colpiti Colpiti Preso in pieno uno Sparo un po' di mitraglietta Perché non ho tutti sti colpi Mi riparo Perché ovviamente mi hanno visto E mi stanno colpendo Ok I capelli Ok Tira fuori la testa Ormai le teste È buggata comunque Quando la vogliono togliere Sta roba Non l'ho capito Quindi vedo la testa Staccata dal corpo Da qui Ma ti sembra Aspetta Colpito un altro Due sono stati colpiti Una volta da cechino Blu Quindi Puoi capire che quei due Sono davvero bassi No ma anche io Ho colpito e tolto Diverso shield Ok Quindi Stai continuando a spararli? Eh non troppo Perché non ho troppi colpi Spara adesso Spara adesso Spara 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 Sfidati Un attimo Uno giù Ok Pensavo sia morto Due giù Cercando di distruggere Tutta la struttura Ok Mi sparano Quindi devo fare attenzione Devo ricostruire C'hai fatta? Sì Ok Hanno un fucile a pompa Sì c'è un po' di tutto Hanno qualcosa di buono Decente Decente Ma uno di noi aveva il cechino Fere Sai che non lo so Chieditelo Perché io sentivo Colpi di cechino Ma non mi sembrava Del mio team Può essere Però magari Boh Non ho idea Probabile che siano uno dei nostri Non lo so Non lo so Non so come sono armati Comunque ho preso abbastanza colpi di tutto Non troppissimi Non hanno il microfono E non parlano Quindi Lo so Lo so Ok Vediamo un bel fucile a pompa Sì Questo Preso? Sì 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 Quello che ti piace Sì 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 L'ho trovato Andiamo che c'è la nuova zona Abbastanza distante Veloci 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 È stato un buon fight Comunque Erano ben messi Come pensavamo Avevano abbastanza materiali Infatti Infatti io adesso ho 700 materiali Che bello Che bello Comunque forse avevano dei fucili da caccia Lì vedo maneggiare dei fucili da caccia Poteva essere a livello di suono Perché io non l'ho sentito È il tipo di proiettile Che ho notato Oh vabbè Però non so se il fucile da caccia Fa quello lo stesso proiettile Io non ho troppi colpi Dell'M16 Ti avverto Quanti? Io nel 200 te li potrei dare Ma sei dietro di me? Più a meno sì Sì sei la prima persona che arriva E poi se ce li hai Anche quelli piccoli Per il minigar Ma non è importante Ce li possiamo dare anche dopo Te ne ho buttato una novantina anche di quelli Sardo Inside sta facendo una strage Ho notato È sardo come noi Dobbiamo starci attenti Stef La guerra Tra sardi Sardo e ciao come butta Anche ciao come butta Stanchissimo Anche io Cioè non capisco più niente Però è troppo bello È davvero davvero bello Vale la pena Vale la pena resistere Per fare più game possibili Allora Lì ci sono solo muri Ma non ho visto nessuno Ma Che c'è fare? Sento una cesta in sta zona Ma dove? Chi è che spara chi? Eh penso dei nostri Boh che gliene ne siete a sparare Ok buttato giù un tipo Quanto shield hai amico? Tanto Stanno fightando tra di loro pure E io ne approfitto Boom Bello questo edge shot Stef Bravo Bravo Dai che ce la facciamo a giocare un po' Spaccate lì Continua a sparare col muro Fre Ci provo Voglio buttare giù le fondamenta Capisci? Sì Però è difficile prendere quelli lato Ok il tipo è caduto È sceso Ok Dobbiamo andare per la zona Lo stiamo svitragliando Come se non ci fosse un domani Ok Occhio eh Ci stiamo facendo notare Quindi occhio Ovvio 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 Adesso attiriamo l'attenzione di tanti team diversi Ok Ok Non vedo No Come è successo? Fucili da cecchino Daniele 200 metri? Ma dove? Ma sei formidabile David Goose Potrebbe essere dietro di noi Potrebbe Come davanti Potrebbe A 200 metri di distanza E anche David Goose Occhio che io l'ho sentito fare diverse kill Lo so L'ho visto fare Potrebbero essere tutti nello stesso team Quindi è bravo Ok Furfante Quello era mio Ti serviva? Te lo lascio No tranquilla Tranquilla Ce n'è un altro Ce n'è un altro Stavo scherzando C'è uno slurp da prendere Ti consiglio di prenderlo Non l'ho visto Dov'è? Qui dietro? Sì Lì Lo vedi? Sì Preso? Sì Perfetto Hai colpi? Sì Più di 500 Mi sono resa conto adesso che avevano un ben di dio E tre player Ok Dov'è? Li vedi? Ma Enrica ci sta seguendo Non lo so Ok li vedo Colpito Uno è basso Hanno provato a check in armi però Ok Fai attenzione Uno è molto basso Credo ci siano anche due team lì C'è un delirio Fai attenzione Lo so Uh te ne arrivano Ah anche lì Cavolo Steph Me l'hanno preso Da dove? Dall'altra parte Da qui a sinistra Qui a sinistra Mi stanno colpendo Uh Ho sentito pure dei missili Ma che siamo fatti Via 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 Continuano a cercare di prendermi Eh me l'hanno preso Steph Ok Non so perché non mi faceva costruire materiali Nonostante io ne abbia Più che altro non so come mai stavano lì Eh ma sono quelli che probabilmente hanno ucciso anche Daniele Capito? L'abbiamo detto Magari sono dietro Infatti sicuramente sono loro Ma porca ma quanti ne avete? Tanti Ah K È finita È finita per me È finita Guarda la cattiveria David Gutz Non solo ha cecchinato a 200 metri di distanza Ma era pure uccisa Ok Sordo inside Hai preso David Gutz Bravi Ah Bravi 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 T'ho detto che erano in team insieme Sì 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 Comunque adesso Peccato 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 Sì sì Ce li siamo beccati dietro Mentre affettavamo un altro team È stato un vero peccato Però Good job La Buongiorno